Ti vedo, ma è il linguaggio di chi dorme, ma è il linguaggio di chi dorme, e che parla in sogno, come dici, come, che cosa, come strano riposo, che cosa, dormire, ad occhi aperti, stando in dormire, parlare, ad occhi aperti, stai in piedi, così profondamente tormentati, muoversi, ed essere così profondamente addormentati. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.